Ciao ragazzi, prima me ha freddo, ciao, ciao, numero 4, buonasera, come ti chiamo? Larisa, Larisa, che bel nome, Larisa da dove vieni? Da Romagna, da Romagna, oh, sei venuta a posto per me e saranno qui, sei venuta appositamente Certo, hanno sbagliato? Ah, ci credo, saranno i grandi Zerco Giovanni qui, ascolta me, cosa fai di bello a una vita? Lavora, fa la pasta, hai dei campioni, ciao Carlo, sì, una volta porto il mio colpa, così salto, ma fai la pasta con me e con me, in Italia, ok, Ascolta, come voi l'uomo ideale? E anche Luca a via Non c'è ancora che sa, ma l'uomo che ha reso di frutto non è venuto tra lì